e torniamo in studio con l'Italia che produce storie di artigiani con il nostro classico appuntamento in compagnia dell'Avvocato Venghi. Buonasera Avvocato. Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera come sapete parliamo di formazione, dedichiamo quindi tutta la puntata al tema della formazione che è un tema che sappiamo molto presidiato da Confartigianato. Questa sera Avvocato io voglio parlarne anche con lei per fare appunto un focus, una serie di chiarimenti normativi e io inizio proprio da mettermi un po' nei panni dell'azienda, le chiedo che cosa può fare un'azienda e ci sono delle nuove opportunità o delle opportunità che sono prorogate sul tema appunto della formazione anche in azienda. Sì, allora formazione, diamo questa notizia, c'è questa misura molto importante introdotta l'anno scorso, si chiama Fondo Nuove Competenze, è stata prorogata al 30 giugno 2021, cioè le aziende possono usufruire di questo fondo per la formazione in azienda, cioè per rimodulare l'orario di lavoro dei propri dipendenti sulla base di un progetto formativo specifico, sino a 250 ore per ogni dipendente e previo accordo collettivo sindacale, cioè è necessario un accordo aziendale che stabilisca esattamente le competenze ed esattamente le modalità di esplicazione di questa formazione, dopodiché è possibile fare domanda ad ANPAL che è l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, è tutto specificato poi sul sito di ANPAL e la società sostanzialmente del Ministero del Lavoro e poi è possibile fare domanda per ottenere il rimborso, il rimborso di cosa? Integralmente, sino a 250 ore, del costo dell'ora del lavoratore che quindi non viene pagato dall'azienda ma viene pagato da ANPAL rispetto alla formazione, per cui in questo caso le ore della formazione del lavoratore sono rimborsate da ANPAL sulla base di questo progetto. È una misura molto interessante, scadeva il 31-12-2020 ed è stata prorogata appunto al 30 giugno 2021 per cui tutte le aziende del settore privato possono effettuare questi progetti, rimodulare le ore di lavoro sulla formazione attraverso gli enti accreditati appunto da ANPAL e chiedere entro appunto il 30 giugno il rimborso di queste ore dei contributi pagati per la formazione. Le chiedo un chiarimento, vale anche per le piccole micro imprese? Sì, tutte le imprese, sì, è necessario appunto l'accordo aziendale, quindi fare prima un accordo e tutto specificato comunque sul sito di ANPAL e poi presso le sedi territoriali di confartigianato tutte le informazioni necessarie. Perfetto, noi nel secondo blocco faremo, avvocato, un punto proprio andando a indagare che cosa sta succedendo qui in Brianza sul tema della formazione e anche sui enti locali, insomma come stanno costruendo questo tema, ma noi sappiamo, come abbiamo detto prima, che è un tema importantissimo anche per le aziende. Potremmo dire, avvocato, che la formazione è uno dei pilastri per la ripartenza? Sì, a mio avviso sono due i pilastri per la ripartenza. Uno è la formazione, con la formazione si sta al passo con i tempi e con la formazione si riesce a raggiungere livelli di efficienza massima che in questo momento sono necessari. E l'altro è l'innovazione tecnologica, ovviamente l'investimento in innovazione tecnologica, sappiamo che ci sono varie misure, l'impresa 4.0 e quant'altro. Quindi sono i due pilastri che a nostro parere sono fondamentali per la ripartenza e per la concorrenza sul mercato. Quindi anche la formazione, l'evoluzione tecnologica, l'evoluzione dei prodotti, l'evoluzione del mercato, il mercato internazionale passa attraverso la qualificazione massima del dipendente, delle risorse aziendali. Quindi è un pilastro fondamentale e tutte le aziende devono poter sviluppare questo tema, assolutamente. Perfetto, io la ringrazio ovviamente anche per tutti i chiarimenti che ci dà settimana dopo settimana e ne approfitto, visto che è qui, per lanciare il servizio che viene adesso. Siamo andati in un'azienda di Meda, siamo andati a vedere anche un passaggio generazionale molto importante e quindi andiamo a vederlo, sormani imbottiti. Vediamolo.